Ora, piena di problemi questa prima grande figura della legittimità, la legittimità unitaria, piena di problemi e piena di contraddizioni, che naturalmente esplodono tutte quante con la prima guerra mondiale, nella quale guerra mondiale è, a mio parere, l'inizio di una seconda figura della legittimità, quella che abbiamo definito nazionale e sociale, che comprende anche il fascismo. Nazionale e sociale vuol dire che l'Italia liberale, l'Italia costituzionale, l'Italia che nasce nel 1861 qui a Torino, era un'Italia che non conosceva la società di massa. Era l'Italia che costituiva appunto il quadro formale dentro il quale sarebbe stato possibile lo sviluppo di una relativamente moderna società di massa. Società di massa vuol dire non fatta di molte persone, ma vuol dire una società in cui molte persone sono in qualche modo costrette, spinte a prendere parte relativamente attiva alla vita collettiva. Che vuol dire che insomma una società dove l'80% della forza lavoro è forza lavoro contadina, bloccata sulla terra nella miseria, nell'ignoranza e nella immobilità perpetua, cioè nasce contadino, vive contadino, muore contadino, non è una società di massa, anche se quei contadini sono milioni e milioni. Una società di massa è quando quei contadini qualcuno li sradica dalla terra, non certo per fare loro del bene, ma insomma li sradica e li porta da qualche altra parte dove fanno qualche cosa di più dinamico e attivo. Questa qualche altra parte sono le fabbriche. e sono le fabbriche e dunque le dinamiche del capitalismo moderno. Questo l'Italia liberale, l'Italia dei notabili con le sue contraddizioni è la condizione perché possa nascere una società di massa. Una società di massa si serve di miti, i miti fondamentali di una società di massa, i miti fondativi della legittimità di una società di massa. Fine 800, inizio il 900 sono stati essenzialmente due, la classe e la nazione. E vanno insieme per il bene e per il male nella storia della prima metà del 900. Per cui uno può parlare di socialismo nazionale, di nazionalsocialismo, può girarla come vuole, ma quei due miti lì sono. E sono quei due miti quelli che si cominciano ad intrecciare pesantemente nel sindacalismo rivoluzionario dei primissimi anni del XX secolo. Sono i due miti che fanno sì che l'Italia entri in guerra, perché l'Italia entra in guerra maggioritariamente sulla base di una spinta del mito nazionale, minoritariamente anche sulla base della spinta del mito sociale. Esiste un interventismo democratico, esiste un interventismo socialista che naturalmente diventa fascista, dei Mussolini. E sono quei due miti che sono all'origine della trasformazione dell'Italia in una potenza con velleità imperiali e al tempo stesso con velleità sociali, cioè l'impero nostro volle sempre essere l'impero dei poveri. La grande proletaria si è mossa, disse Pascoli, siamo nel 1911, cent'anni fa, per parlare dell'Italia che andava in Libia. E la nostra avventura coloniale in Etiopia era tutta l'insegna del fatto che l'Italia aveva bisogno del posto al sole come ultima arrivata fra le ricche e ormai decadenti nazioni coloniali. Dovevamo noi, giovane e povera, dovevamo avere, noi, nazione giovane e povera, dovevamo avere anche noi il nostro posto al sole. Questo intrecciarsi del mito sociale e del mito nazionale sono assolutamente costitutivi della politica dei primi 50 anni, 45 anni del ventesimo secolo. E naturalmente il punto forte è prima guerra mondiale, fascismo, cioè non più l'Italia unita, è la legittimità, ma per adoperare le parole di Mussolini che, da bravo giornalista, gli slogan li sapeva escogitare, quando andò appunto dopo la marcia su Roma dal re e disse maesta vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, che non era vero, ma lasciamo stare, non era più l'Italia del risorgimento, era un'altra Italia, era una sia pure modesta società di massa, società modernizzata, perché la prima guerra mondiale, come tutte le grandi guerre, è un atto di modernizzazione, è una società modernizzata, nel nord Italia c'erano le grandi fabbriche, c'era il partito socialista, c'era stata la settimana rossa, c'era stato il biennio rosso, ed era un'Italia che aveva, questa tutta, non solo quella del nord, che aveva fatto la guerra, e aveva fatto una guerra di massa, una guerra tecnica di massa, una guerra fondata sulla capacità produttiva del paese, e una guerra fondata sulla capacità di sacrificio di milioni di uomini. Questa Italia di massa era un'Italia mobilitata e dunque un'Italia diversa, molto diversa, dall'Italia sostanzialmente immobile, o pochissimo mobile dell'epoca liberale. Dentro questa Italia, le legittimità, dentro questa grande forma di seconda legittimità, cioè, abbiamo detto, sociale e nazionale, nazionale e sociale, vi sono ovviamente forme di legittimità più analitiche, essenzialmente, essenzialmente all'interno di questa seconda grande forma di legittimità si distingue il fascismo, e il fascismo ha come, ha varie, presenta vari aspetti di legittimazione della propria esistenza, del proprio ruolo, della propria missione, uno conflittuale, per l'appunto, la lotta contro la guerra civile, sostanzialmente contro i socialisti, la paura del bolshevismo, ma anche l'idea che il liberalismo non è stato capace di integrare le masse, ha generato la società di massa, dopo tutto, alla lunga, alla fine dell'età liberale, era nata nella società di massa, ma l'età liberale non era più in grado di integrare quelle masse dentro l'architettura dello Stato. E dunque, una capacità di, una legittimità, quella del fascismo, che nasceva dalla sua presunta capacità di integrare le masse dentro la cosa pubblica, naturalmente, questa integrazione avvenne e fu lo Stato, quello che i fascisti chiamavano lo Stato totale, lo Stato totalitario, cioè le infinite, prima la grande quantità di istituzioni, a metà fra le istituzioni politiche statali e le istituzioni politico-partitiche del Partito Unico, grazie alle quali un cittadino italiano veniva coinvolto nella vita politica in ogni momento della propria esistenza, dai figli della lupa fino alle massaie rurali, passando attraverso tutte le infinite associazioni che costituivano l'ossatura politica reale del Paese, a cui corrispondeva anche una prestazione di protezione, lo Stato sociale comincia a essere inventato timidamente da Giolitti, alla fine della sua esperienza politica, e viene implementato da Mussolini. Gli scopi erano di grandezza e potenza, difesa della razza, difesa della maternità, difesa di quello che volete voi, e tuttavia era una forma di legittimazione molto potente, cioè il singolo non è lasciato solo, non siamo solo uno Stato, siamo una comunità, una collettività, e anzi una collettività nuova. Naturalmente tutti sappiamo com'è andata a finire, questa collettività si è connotata abbastanza presto e in modo sempre più accentuato anche come collettività razziale, e dunque è diventata una collettività escludente, non soltanto escludente i nemici politici, i socialisti, i comunisti e i democratici, ma escludente anche gli ebrei, i presunti tali, gli inventati tali dalle leggi, ovvero sia persone italianissime che improvvisamente si sentivano dire tu non sei italiano, e le conseguenze nefaste di tutto ciò sono state ovviamente la stretta alleanza con i tedeschi, la sconfitta militare e anche per fortuna un po' di reazione endogene, non soltanto una sconfitta che proveniva dall'esterno, ma anche una reazione dall'interno. Questa reazione è la resistenza ovviamente e l'idea della legittimità democratica, la terza grande famiglia di legittimità che questo Paese ha conosciuto, ovvero sia una legittimità che si fonda sopra l'integrazione di tutti i cittadini nella cosa pubblica e in questo c'è il ricordo dell'esperienza fascista, ma un'integrazione che non è più di dominio, non è più vessatoria, non è più totalitaria, ma è un'integrazione civile, è un'integrazione che si fonda non sul mito dello Stato, ma sui diritti individuali e sull'obbligo dello Stato di implementarli, difenderli e realizzarli. E qui l'elemento del conflitto è chiarissimo, per affermarsi questa terza legittimità ha dovuto combattere, nasce da una scelta, da una decisione. Questo è un caso aperto, esplicito, di caso d'eccezione, cioè di decisione costituente, decisione di taglio, di rottura rispetto a un ordinamento e di apertura di un nuovo orizzonte. Questo nuovo orizzonte è la democrazia e questo orizzonte è descritto dalla Costituzione, che come tutte le Costituzioni che nascono da una potenza costituente, conserva all'interno dell'ordine costituito robuste tracce del conflitto che l'ha generata. La nostra Costituzione nasce con una convenza del scrudendum esplicita antifascista, che non può essere, tra l'altro, una Costituzione rigida e pertanto è difficilissimamente maneggiabile. E questo marchio, questo sigillo antifascista è il segno della sua vitalità politica, che non sta soltanto nelle disposizioni transitorie finali che chiudono il testo e vietano la ricostituzione del disciolto partito fascista, oltre che combinano l'esilio agli esponenti maschi di casa Savoia, ma stanno ad esempio nei principi fondamentali che orientano l'interordinamento verso la democrazia. Dunque una Costituzione non liberale, ma democratica, una Costituzione non neutra, ma orientata, una Costituzione che incorpora un conflitto, quello contro il fascismo. E tuttavia la grande famiglia, la terza famiglia della legittimità democratica contiene al proprio interno, a sua volta, altre più analitiche forme di legittimità, a loro volta contraddittorie, ricche di contraddizioni. Fondamentale, ad esempio, è quella che noi sappiamo è costituita dalla convenza del scrudendum anticomunista. Per cui abbiamo un curioso incrocio, la Costituzione nostra, fatta anche dai comunisti, come la resistenza fu fatta anche dai comunisti, contiene un'esclusione antifascista. La vita costituzionale dell'Italia repubblicana, non nella Costituzione legale e formale, ma nella Costituzione materiale, conosce la convenza di scrudendum anticomunista, determinata dalla situazione internazionale, dalla divisione del mondo in due sfere di influenza, e una convenza di scrudendum anticomunista che non fu mai trasformata in una norma, in una legge della Repubblica, come chiedeva anche l'ambasciatore statunitense in Italia, ma passò attraverso una serie di provvedimenti amministrativi pesantemente discriminatori e nella pubblica amministrazione e nelle grandi fabbriche. Però al tempo stesso ai comunisti veniva consentito di esercitare l'amministrazione locale, laddove si vincevano le elezioni amministrative, dando così dell'Italia un'immagine singolarmente pluralistica. Un'altra fondamentale legittimazione all'interno della grande famiglia della legittimità democratica è una legittimazione materiale. L'Italia democratica, antifascista per Costituzione, anticomunista per necessità, per contingenza storica, l'Italia democratica conosce quella che noi abbiamo chiamato il miracolo economico, diciamo così, conosce, ha una Costituzione materiale strutturata attraverso un grande patto implicito fra le forze del lavoro e le forze moderate. Questo grande patto implicito, questo grande patto era esplicito nella Costituzione, che è il grande patto fra le forze liberali, democristiane, democratiche, socialiste e comuniste. Lì è esplicito. Poi c'è un grande patto implicito, ma insomma molto evidente nella storia libera Italia repubblicana, fra il mondo borghese che non è più a guida liberale né è a guida democratica, cioè non sono né gli eredi di Giolitti né gli eredi di Amendola, ma è a guida cattolica e tuttavia è democratico. Da una parte e dall'altra il mondo del lavoro che è socialcomunista con tendenza dei socialisti a diminuire di peso, dei comunisti a crescere il proprio peso. Il patto è quello che si chiama il compromesso socialdemocratico, che in Italia anche in Italia ci fu, anche se non fu fatto da socialdemocratici che non c'erano in pratica nel nostro paese, ma fu fatto da democristiani da una parte e comunisti dall'altra. Il patto era sostanzialmente questo, che il capitale fa il proprio mestiere, cioè produce profitto e tuttavia questa produzione di profitto viene in parte redistribuita dallo Stato e dall'altra parte le forze del lavoro e le forze della sinistra riconoscono l'architettura costituzionale come una casa comune, perdono di fatto, e ci mancherebbe erano stati loro a edificarla, anche loro a edificarla, perdono di fatto ogni velleità rivoluzionaria e incorporano, integrano i partiti della sinistra, integrano le masse popolari dentro la democrazia repubblicana. Cosa che a noi sembra ovvia, ricordiamo che le sinistre in Italia erano state per lungo tempo sinistre sovversive, cioè che non volevano, non riconoscevano la legittimità dell'ordine esistente. Erano sovversive le sinistre socialiste, erano sovversive le sinistre anarchiche. Ecco, il partito comunista, il partito socialista nel dopoguerra del partito comunista hanno trasformato il sovversivismo in democrazia. Così come i padroni, come si diceva allora, hanno trasformato la loro capacità relativamente modesta di fare profitti, in capacità di fare profitti all'interno di contesti più evoluti, l'Europa, l'Europa economica ad esempio, e di mediare, di mediare, operare una mediazione fra il profitto e la politica, questa mediazione era essenzialmente la democrazia cristiana e le politiche riformistiche dei governi a guida democristiana, che sono quelli che hanno fatto la prima repubblica. Hanno fatto la prima repubblica con quelli che noi abbiamo da tempo imparato a disprezzare come carrozzoni di stato, parastato, enti parastatali e tutto quello che è stata la legittimità materiale del nostro paese, che ha garantito il fatto che l'Italia, un paese miserabile, sostanzialmente miserabile, non povero, quale era uscito dalla guerra, sia diventata nell'arco di un trentennio un paese sostanzialmente opulento. Bisogna ricordarsene queste cose, perché la legittimità della Repubblica Democratica è passata attraverso la resistenza, certamente, attraverso la Costituzione, è passata abbondantissimamente attraverso il benessere. Un benessere che non nasceva dal nulla, nasceva dal lavoro degli italiani e da una politica che aveva messo in equilibrio attraverso conflitti. Il nostro non è stato un modello renano, un modello tedesco renano, cioè privo di conflitti. Il nostro è stato un modello conflittuale. Questo compromesso socialdemocratico, di fatto, era continuamente rinegoziato attraverso scioperi, tanto per capirci. Questo compromesso socialdemocratico si compie sostanzialmente nel bienio 68-70, attraverso spinte anche massicce.